Ora si registrerà la conferenza. Ok, allora buongiorno a tutti, io sono Francesco Bursi e appunto in questo Geo Break abbiamo come ospite Salvatore Fiandaca che non ha bisogno di presentazioni e diciamo abbiamo già fatto due parole nei minuti precedenti, parleremo del Fill Calculator e appunto dell'utilizzo delle espressioni in QGIS e lascerei la parola appunto a Salvatore che appunto ci presenterà questo topic. Vai pure Salvatore al campo libero. Ok, buongiorno a tutti e grazie per essere qui. Vi condivido subito il mio schermo perché abbiamo solamente un'ora e quindi partiamo subito. Allora, questo è il secondo incontro, il primo incontro l'abbiamo fatto a giugno, questo incontro di stamattina è una, diciamo così, la seconda parte. Un attimino vi faccio vedere le slide del primo incontro, molto velocemente le slide del primo incontro. Queste qua naturalmente le trovate nel repository che vi ho condiviso. Parlerò un attimino in un modo approfondito di questa slide qua, le espressioni di QGIS dove utilizzarle. Per chi si approccia per le prime volte a QGIS, in questa slide vi faccio vedere dove è possibile utilizzare QGIS, o meglio, le espressioni di QGIS. Si possono utilizzare nella tabella attributi per tematizzare, per etichettare, per selezionare, nel compositore di stampa, quindi negli atlas, nei report, ci sono sempre delle espressioni, negli strumenti di processing, nei moduli di inserimento date, nei widget, ci sono espressioni, nelle azioni, nel modellatore grafico, nei diagrammi, nei filtri, nelle decorazioni, nelle proprietà dei layer, dove ci sono anche le variabili, per fare statistiche, nei suggerimenti mappa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, qua ci sono 15 punti che fanno capire l'importanza della conoscenza delle espressioni di QGIS, perché, praticamente, le espressioni le trovate ovunque, ovunque ci sono espressioni in QGIS. Vabbè, qua vado un po' veloce, vi ripeto, queste slide le trovate nei link, questa qua è la presentazione della volta scorsa, o invece oggi partiamo direttamente con questa, che è quella nuova, la seconda parte, come vedete qua ho scritto seconda parte. Allora, nel primo incontro, vabbè, come vi ho detto poco fa, ho parlato di cosa sono le espressioni, dove poterle utilizzare, ho spiegato anche un po' la GUI, come funziona, ora naturalmente dirò altre cose, la GUI di linea, la sintassi, eccetera. Qua ci sono i link per accedere al repository, le slide e il video YouTube. E allora, vediamo alcuni esempi, quindi in questa seconda parte farò, praticamente, esempi, quindi esempi di uso delle espressioni. Vi faccio vedere un attimino alcuni esempi qua, attraverso le slide, per farvi capire sempre la potenza dell'espressione di QGIS. Questo è un esempio di uso delle espressioni nel compositore di stampa di QGIS. Come vedete qua, ci sono dei grafici, guardate i grafici, non guardate tanto la parte geometrica, ma i grafici. Questi grafici li ho realizzati tramite un plugin, naturalmente occorre installare il plugin di Matteo Ghetta, il plugin si chiama Data Plotly, e installando questo plugin, naturalmente, è possibile creare dei diagrammi, ma, naturalmente, i dati devono essere già pronti per essere diagrammati. E in questo caso, l'espressione che vedete qua, è un'espressione che mi permette di calcolare gli incrementi giornalieri di una variabile medica, in questo caso era l'incremento dei tamponi, perché nel dataset che mette a disposizione la protezione civile, questo dato sui tamponi, naturalmente sto parlando del coronavirus, i dati che mette a disposizione sono assoluti, quindi ogni giorno viene fatta la somma di tutti i giorni precedenti. Siccome io volevo diagrammare solamente gli incrementi, ho dovuto utilizzare questa espressione. Questo per farvi capire che molte cose si possono fare rimanendo all'interno di QGIS, perché spesso cosa si fa? Si hanno dei dati, si vogliono analizzare, quindi si esce da QGIS, si fa prendere qualche altro strumento, non so, Excel o altre cose, si fanno dei calcoli e poi si ritornano in QGIS. Con questo voglio dimostrare che tramite l'espressione di QGIS possiamo rimanere all'interno di QGIS e fare le analisi che ci interessano. Questo è un altro uso dell'espressione di QGIS. Questa è la tematizzazione. Come dicevo poco fa, per tematizzare posso utilizzare le espressioni. Come vedete, per ogni feature, quindi qua, non so, per ogni provincia, per ogni regione, ho utilizzato sempre i dati del COVID. e questo grafico che vedete rappresenta, se non ricordo male, perché questo l'ho fatto più di un anno fa, rappresenta i positivi. Quindi, come vedete, è tutto un gioco di geometrie e i dati collegati alla geometria. Questo è un altro esempio, questo potete andare a vedere su Twitter, qua ho lasciato il link. Gandhi è molto famoso, questo ragazzo, ragazza, anche abbastanza grande, ha messo questa specie di prova, sfida che ha fatto su Twitter, dove chiedeva di andare a tracciare, come vedete qua, in questo disegno qua, ci sono degli edifici e delle strade. Il quesito chiedeva di tracciare, naturalmente utilizzando ognuno con il proprio strumento preferito, quindi per ogni edificio, vedete qua, questi rettangoli rappresentano gli edifici, tracciare un seguimento che parte dal punto medio della facciata più vicino alla strada, questo era il quesito. Quindi dal punto medio, non tanto il punto più vicino, ma doveva essere il punto medio della facciata dell'edificio più vicino alla strada. Io ho partecipato a questa sfida, naturalmente il mio metodo è quello attraverso le espressioni. Qua ho condiviso l'espressione, vedete qua sotto. E niente, per farvi capire sempre che tramite le espressioni si possono fare molte cose. Espressione widget, come vedete qua, io posso tracciare tramite dei semplici espressioni, poi questa qua ve la faccio vedere, si possono tracciare dei diagrammi, vedete questo è un widget, quindi basta mettere gli opportuni dati, naturalmente qua è tutto tramite array, queste sono espressioni tramite array, come ho scritto qua. Quindi vedete, questo riguarda sempre un dataset legato ai vaccini, vedete qua le due barre, quello grigio sono il target, quello verde sono i vaccinati. Altro esempio, questo qua è un esempio di tematizzazione, con questa espressione che vedete qua, come vedete non è molto complessa, questo qua riesco a simulare l'effetto del riempimento d'acqua in un recipiente. Il recipiente in questo caso sono i poligoni, vedete questo è lo strato informativo che mette a disposizione l'Istat riguardo alle ripartizioni geografiche italiane e su questo strato qua io tramite, ripeto, questa semplice espressione, come vedete qua alla fine c'è second, vedete questa è una cosa che si può animare, questa espressione si può animare, naturalmente bisogna attivare l'animazione dei layer in QGIS e quindi per ogni secondo si vede questo effetto di riempimento del poligono. Altro esempio che riguarda le etichette, come vedete qua possiamo etichettare utilizzando caratteri diversi, non so bold oppure italic eccetera eccetera, come vedete sempre tramite espressioni, quindi per l'etichettatura è possibile anche manipolarla. Poi c'è un altro esempio che riguarda l'analisi, questo qua è molto particolare, come vedete qua ci sono tre strati diversi, sono tre layer diversi, c'è un layer punto, un layer linea e un layer poligono e poi c'è un quarto layer che è questo che vedete che io vado spostando, è sempre puntuale, tramite l'espressione, queste espressioni che vedete qua scritte, man mano che io vado spostando il punto, ripeto, sono quattro layer diversi e QGIS mi dice, tramite questa espressione, il punto a quale elemento è più vicino, se al poligono, se al punto o alla linea e questo ripeto tramite espressioni, quindi questo qua per le analisi come vedete è abbastanza potente. Altra cosa molto interessante delle espressioni è la selezione, in questo caso qua abbiamo la Sicilia con tutti i suoi comuni, in questo esempio, spero si capisca, naturalmente ho scelto i comuni più piccoli, comunque questa è una selezione dove io tramite una semplice espressione vado a determinare i comuni per ogni provincia che hanno l'estensione più piccola, quindi è una selezione tramite espressione. Poi, altra cosa che voglio dire a cui ci tengo sono le espressioni personalizzate, QGIS mette a disposizione molte funzioni già presenti nel core, sono oltre 300, solo di funzioni, poi per non parlare delle variabili, le variabili ce ne sono altre 100 e forse anche di più, quindi in generale ci sono circa 300 funzioni che sono già a disposizione, però naturalmente 300 non soddisfano tutti i casi possibili, di conseguenza QGIS mette a disposizione questo strumento, o meglio, c'è il linguaggio PIE QGIS che ci permette di creare tutte le funzioni personalizzate che ci servono. Per esempio, vi faccio un caso abbastanza classico, in QGIS, per esempio, non trovate la funzione fattoriale, non esiste, non esiste non perché non ha senso, ma perché nessuno l'ha mai chiesto di implementarla, quindi il fattoriale non c'è, di conseguenza ho chiesto a un mio carissimo amico Giulio Fattori, ho detto Giulio la puoi implementare in due secondi perché veramente calcolare il fattoriale non ci vuole nulla, vedete qua FACT, si chiama FACT, è una funzione personalizzata, occhio però al fattoriale perché facilmente diverge, quindi se già mettete il nostro fattoriale di 20, già è un numero così grande che è difficile da gestirlo, comunque il concetto è che da 300 funzioni possiamo creare tutte le funzioni personalizzate che vogliamo. Detto ciò, ora ci buttiamo all'interno di QGIS e vi faccio vedere alcuni esempi. E allora, il repository che vi ho condiviso nella chat è questo qua. Se andate a vedere, qua trovate esempi, vedete qua c'è scritto esempi, se ci cliccate trovate l'elenco di tutti gli esempi che ora vi farò vedere, che svolgerò, naturalmente cercherò di utilizzare questo elenco, quindi vedete qua ci sono tutte le espressioni, questi sono tutti gli esempi che vi farò vedere oggi se ci riesco e quindi iniziamo subito partendo dal primo esempio che è questo qua, naturalmente avvio QGIS, il 3.20 e iniziamo subito, vi faccio vedere come utilizzare le espressioni all'interno di una tematizzazione, un semplice esempio che solitamente quando noi tematizziamo utilizziamo solamente un campo, quindi noi abbiamo la tabella attributi, andiamo a scegliere un semplice campo e tematizziamo rispetto a quel campo. Ora vi faccio vedere come tematizzare utilizzando le espressioni. Ecco qua, perdonatemi ma io devo utilizzare un template che mi viene più comodo, quindi questo qua. E allora, ora vi faccio vedere, iniziamo col primo, fatemi seguire qua, questo qua è quello delle regioni. Allora io carico le regioni, naturalmente nel repository, ve lo faccio vedere qua, Geobrick, qua, vedete qua c'è vettori, quindi se andate qua e cliccate sopra lo potete scaricare e all'interno ci sono gli strati informativi, cioè questi strati l'ho preso dall'Istat, o lo scaricate da qua oppure vi collegate al sito di Istat, cercate shapefile l'Istat e lo trovate. Allora esempi, quindi ritorniamo qua. Facciamo questo primo esempio che riguarda la tematizzazione. Allora vado a prendere, naturalmente un'altra cosa anche se non è argomento, QGIS legge direttamente i file zippati, vedete qua, vettorio.zip, QGIS li apre e li legge tranquillamente. Naturalmente non possono essere editati, però a noi non interessa in questa fase editarli. Quindi come vedete, per adesso sto utilizzando lo shapefile che si trova all'interno di una cartella zippata. Allora, detto ciò, qua per tematizzare solitamente come si fa, come si procede normalmente, si apre dalle proprietà, apriamo lo stile del layer, categorizzato, andiamo a scegliere uno dei campi e tematizziamo. Questa è una semplice categorizzazione tramite uno dei campi. Ora vi faccio vedere che posso utilizzare le espressioni, naturalmente io l'ho scritta qua, le espressioni che utilizzerò, vedete? Questa qua la copio un attimino, ritorno qua in QGIS, vedete qua, ogni qualvolta vedete un Epsilon, vedete qua c'è Epsilon, questo significa che posso accedere al costruttore delle espressioni, quindi se clicco qua, questo qua è il costruttore delle espressioni, qua incollo quello che ho copiato poco fa, che è questo, un attimino lo zoom, vedete? Qua sto utilizzando un'espressione per categorizzare, cosa mi dice questa espressione? Se vado a vedere substr, qua c'è la guida, per accedere alla guida di una funzione, questa è la funzione, faccio vedere un attimino, se vi avvicinate il mouse, vedete che cambia l'icona, se tenete premuto control e ci pigiate sopra, clic sopra, richiama direttamente la guida in linea della funzione, quindi substr restituisce, come è scritto qua, una parte di una stringa, quali sono gli argomenti? Lui vuole questa funzione, prima una stringa, la stringa è in generale una stringa, ma io posso dare anche un campo, se andate a leggere qua sotto argomenti, stringa, l'intera stringa è in entrata, ma qua io gli posso dare anche un campo, perché i campi, vi faccio vedere da qua, se abbiamo la tabella attributi, per esempio denreg, ogni elemento all'interno contiene una stringa, quindi io posso dargli direttamente il campo, quindi ritorno qua, incollo nuovamente, ecco qua, abbiamo la funzione, quindi stringa, gli do il nome del campo, che è questo, denreg, anche se non è scritto le maiuscole, a cui ci sono gli interessano, o maiuscole o minuscole, a cui ci sono le legge lo stesso, quindi la prima è la stringa, la seconda è lo start, cioè da dove devo partire, perché ripeto, substring, restituisce una parte di una stringa, quindi string, gli do il campo, da dove devo partire, string, start, ora i numeri positivi, se io mettessi uno, lui parte dall'inizio, se metto numeri negativi, parte dalla fine, ok? Quindi in questo caso gli sto dicendo, prendi il contenuto di denreg, vai e inizia dalla fine della parola, per esempio Piemonte, lui inizia dalla fine, dalla E, l'ultimo parametro che vuole, che è opzionale, è la lunghezza, cioè quanto deve essere lungo questa parte della stringa che devo estrarre, in questo caso uno, praticamente quello che ho scritto qua significa, prendi per ogni elemento del campo denreg l'ultima lettera, questo significa, quindi prendi l'ultima lettera, questo significa, quindi ora vi faccio vedere che categorizzo l'Italia e le sue regioni in funzione all'ultima lettera del nome della regione stessa, ok? Vedete qua? Questo di quell'imine si classifica, come vedete le ultime tre lettere sono A, E e O, come vedete l'ha categorizzato, quindi come vedete è molto semplice utilizzare le espressioni per categorizzare, naturalmente questa è una semplice espressione, qua potete, per chi è capace, creare delle espressioni abbastanza complesse, qui se le valuta tranquillamente, e quindi questo qua è il primo esempio che volevo farvi vedere per quanto riguarda la tematizzazione tramite espressioni, ed è questo qua che abbiamo appena fatto. Andiamo a vedere le etichette invece, come etichettare utilizzando le espressioni, anche qua vi faccio un esempio abbastanza semplice, ma allo stesso tempo potente, vado a caricare questa volta le province, eccole qua, e un attimino categorizzo così distinguiamo le province codice per provincia, ecco qua, no scusate, per regione devo fare, codice regione, elimina e classifica, ecco qua, quindi queste qua sono le province, ora mettiamo caso che volessi io a etichettare queste province e voglio vedere come etichetta, non so, il codice della regione, un attimino fatemi il quanto cerco di far vedere un po' meglio i numeri, metto questo, e questo qua faccio più, ecco qua, ora attualmente questo essendo uno strato che riguarda le province, le etichette come funzionano? Funzionano che io ho scelto il campo, QGIS va a mettere un'etichetta per ogni elemento, quindi le province sono 107, io otterrò 107 etichette, se vado non so, in Toscana che ci sono 10 province, 9, 10 etichette, però in questo caso l'etichetta è sempre la stessa, come faccio a dirgli a QGIS, fammene vedere solo un'etichetta e metterla per esempio al centro, ok? Questo problema si risolve facilmente utilizzando l'espressione di QGIS, si può fare in vari modi, io vi faccio vedere un modo che è molto carino e riguarda il posizionamento dell'etichetta, quindi se andate qua su etichetta vedete qua che c'è molte tab, andate sul penultimo e qua dentro ci sono un altro milione di opzioni, però noi ci concentreremo solamente con questo, vedete qua, generatore di geometria, andiamo su questo e andiamo a generare, cos'è che andiamo a generare? Cioè quello che generiamo qua è una geometria e l'etichetta seguirà quella geometria, quindi non so, se io traccio un cerchio, gli posso dire a QGIS tracciami l'etichetta attorno a quel cerchio, se è un'ellisse attorno all'ellisse e se è una linea gli posso dire segui l'andamento della linea e così via. In questo caso io devo tracciare un punto partendo dai poligoni, da queste province. Ora per tracciare il punto per ogni regione, caso Toscana sono 10, da queste 10 io devo tirare fuori un punto, ok? Se mi sposto, non so, vado qua in Piemonte, anche qua voglio solo un punto e così via, quindi per ogni regione voglio un punto. Come faccio a fare questo? Si fa semplicemente facendo un piccolo ragionamento, io devo raggruppare queste geometrie per codice regione, quindi raggruppo queste geometrie per codice regione, da questo raggruppamento di geometrie, gli dico di estrarmi il baricentro, ok? Ed è tutto praticamente questa espressioncina qua, io la copio, la metto qua, incolla, vedete qua? Centroid, anzi ci vado da qua che posso zoomarla, vedete qua? Cosa gli sto dicendo? Questa è una funzione, una funzione di funzione, cioè prima faccio il Collect, cosa fa il Collect? Vi ripeto, con la manina o il mouse, se vi avvicinare su Collect, se avete premuto Control, cliccate, vi compare qua la guida, Collect restituisce la geometria parte multiple di geometrie aggregate da un'espressione, praticamente Collect cosa fa? Gli diamo in pasto la geometria e poi gli dico raggruppala secondo un campo, io sto raggruppando secondo il codice regione, ok? Quindi in Toscana sono 10, mi tira fuori un punto e così via. Dopo che ho fatto questa aggregazione col Collect, a questa qua, Collect, tutto questo, ora diventa la geometria, a questa geometria gli dico tirami fuori il centroid, ok? Come vedete è abbastanza semplice, ok? Vedete? Quindi ora ho un unico punto io, invece di ripetere per ogni provincia, ora vedete anche se sto utilizzando uno strato con 107 elementi, lui mi sta facendo vedere solamente i codici delle 20 regioni e questo è un altro esempio dell'uso delle espressioni. Un attimino andiamo a vedere come utilizzare le espressioni nella tabella attributi, vi faccio un esempio abbastanza banale, ma spero che sia abbastanza chiaro. Questa è la tabella attributi, guardate che c'è qua, andiamo su questo campo, tipo UTS, anzi no, torniamo in questa invece, che ci sono meno elementi, si capisce ancora meglio, scusate un attimo, così. Ecco qua, vi faccio vedere come manipolare la tabella attributi tramite le espressioni. Allora, vedete qua il campo DENREG, DENREG contiene i nomi delle regioni. Ora mettiamo caso che per qualche motivo a noi interessa che il nome sia tutto maiuscolo, può capitare, oppure al contrario, in questo caso è solamente la prima lettera, ma può capitare che, non so, per etichettare, per qualsiasi altro motivo ci serve che siano tutte maiuscole. Come faccio a modificarlo? Allora, in questo caso non lo posso fare perché ripeto, ho utilizzato un file zippato, però ve lo faccio vedere aggiungendo un campo virtuale, non cambia nulla, così con l'occasione vi parlo anche dei campi virtuali. Naturalmente quanto i campi virtuali sono quei campi che appunto sono virtuali nel senso che rimangono nella memoria, nella memoria, diciamo così, virtuale, o meglio, non vanno a modificare la tabella attributi, non la modificano fisicamente, è un qualcosa che viene aggiunto, collegato alla tabella attributi e viene memorizzato nel file di progetto, quindi non nello shapefile, quindi se voi non so, create un campo virtuale e quello shapefile lo passate a un collega, lui non troverà il campo virtuale, scusate, ok? Se volete passare tabella attributi e campo virtuale dovete passare anche il file di progetto. Un'altra proprietà dei campi virtuali è che all'interno memorizzano espressioni e non dati. Cosa significa? È come Excel. In Excel, noi all'interno di ogni cella, cosa mettiamo noi? Una formula e quindi Excel va a valutare sempre la formula. È la stessa cosa qua in QGIS. I campi virtuali funzionano allo stesso modo. Io all'interno di ogni cella, o meglio, all'interno, quando vado a definire un campo virtuale, io definisco l'espressione e QGIS va a valutare sempre quell'espressione, quindi se all'interno dell'espressione ci sono dei collegamenti ad altre celle, ad altri campi, quell'espressione, quel campo valuterà sempre l'espressione, quindi il dato è sempre aggiornato. Infatti io li chiamo anche campi dinamici, nel senso che sono sempre aggiornati. Allora vi faccio vedere in questo caso, per raggiungere un campo virtuale, andiamo nel pallottoliere, vedete qua, già in automatico, perché QGIS riconosce che questo tabello attributo non è editabile, quindi direttamente mi suggerisce che l'unica cosa che posso fare è creare un campo virtuale, ok? Quindi qua lo chiamo, non so, che nome metto? Nomi, maiuscolo, maiuscolo. Ecco, poi un'altra cosa, vedete qua, questo è un limite legato allo shapefile, non posso scrivere oltre 10 caratteri. Allora qua testo e ora qua io replicherò questo campo, lo aggiungo qua, però è tutto scritto in maiuscolo. Come si fa? Si va a cercare una semplice funzione che ormai si chiama ovunque così, upper, upper. Per sapere upper qual è l'argomento che richiede, vado qua, vedete c'è questa casella di ricerca, upper e lui me la trova a QGIS. Stringhe di testo, upper, vado a leggere sempre la guida, converto una stringa in lettere maiuscole. Come argomento vuole solamente una stringa, ripeto, la stringa per QGIS è anche un campo, quindi io qua direttamente vado su campi e valori, campi e valori contiene tutti i campi presenti nella tabella attributi, quindi vado a scegliere denreg, denominazione regione, doppio clic e lo aggiunge. Altra cosa che vi dico, QGIS vi suggerisce anche se l'espressione è errata e vi dice a partire da dove c'è l'errore. In questo caso vedete che c'è questo triangolino rosso, non so se siete riusciti ad apprezzarlo, questo triangolino rosso, QGIS mi sta dicendo guarda che a partire da questo triangolino rosso manca qualcosa per rendere, diciamo così, corretta l'espressione. In effetti qua manca, devo chiudere ancora una parentesi, ok? Qua sotto c'ho l'anteprima, quindi vedete, vedete Abruzzo scritto in minuscolo e qua me lo scrive tutto maiuscolo, gli dico ok, ed ecco qua che ho manipolato la tabella attributi tramite un'espressione, ripeto, questo qua è dinamico, qua dentro, ripeto, c'è l'espressione, per andarla a modificare ora dovete andare sulle proprietà, quindi doppio clic su layer, andate nelle proprietà, andate su modulo, no, su campi, vedete qua i campi fisici, quelli che realmente sono nella tabella attributi, vedete qua sono numerati con i numeri 0, 1, 2, 3, 4, 5, però a fianco, vedete questo è 1, 2, 3 di tipo intero, ABC è testo, 1, 2 è di tipo real, questo essendo un'espressione, vedete, mette una Epson e qua c'è l'espressione che sto utilizzando, naturalmente la posso modificare, basta cliccare qua, accedo all'espressione e la modifico, ok? Molto semplice, andiamo avanti, prossimo esercizio che riguarda, ah la selezione, vi faccio vedere un attimino la selezione. Salvatore? Salvatore? Dimmi. Scusa, sì, non avevo dato le regole per le domande, siccome anch'io ne avevo una e vedo che c'era un'altra mano alzata di Silvia, vuoi che le facciamo alla fine le domande, vediamo tutto alla fine, scusami, non volevo interromperti. Ma sì, io direi di farlo alla fine. Ok, dai, ok, scusami, prosegui. Allora, prossimo esempio è selezione per espressione. Allora, torniamo qua in QGIS, vediamo questo esempio, l'ho fatto con le province. Allora, quindi spengo questo e riaccento questo, sono le province. Eh, province, fatemi togliere l'etichetta, anzi, fatemi fare che faccio prima, chiudi, tralascia, ripeto, vado a caricare le province. Allora, qua vi faccio vedere come si fa la selezione tramite espressione. Qua è quello che ripeto sempre, chi mi segue dirà ma Totò dice sempre le stesse cose. Eh sì, è vero, dico sempre le stesse cose, ma sono delle cose a mio avviso basilari. Allora, questo è lo strato province, qua ci sono 107 comuni. Ho la domanda molto semplice che vi faccio è, se io volessi selezionare la provincia più estesa, come si fa? Oppure la provincia meno estesa, ok? L'importante è capire come si seleziona, poi possiamo decidere, possiamo decidere anche, voglio sapere, non so, la terza provincia più estesa, la quarta, la quinta, cioè possiamo decidere quale elemento selezionare. Allora, come si fa la selezione? Esiste questo strumentino qua, vedete qua in alto, dove c'è la Epson, dove c'è la Epson, in QGIS, in QGIS, la cosa bella di QGIS è che è molto coerente, cosa significa? Che in qualsiasi parte di QGIS, dove è possibile utilizzare le espressioni, c'è una Epson, ok? Quindi vedete qua Epson, questa è una selezione per espressione. Si apre questo costruttore delle espressioni e qua dentro possiamo dirgli di tramite naturalmente espressioni di andare a selezionare la provincia più estesa. Come si fa questo ragionamento? Naturalmente quando dico più estesa significa che mi sto riferendo alla sua area, ok? Poi la funzione che calcola l'area, ce ne sono più di una, però utilizzo area, dollaro area, dollaro area è una funzione che va a calcolare l'estensione per ogni elemento del layer, ok? Vi consiglio di andare a leggere la definizione di area, perché questa qua è un'area un po' particolare, quest'area dipende dalle impostazioni di progetto, quindi se nel progetto è definito un ellissoide, se nel progetto è definita, non so, l'unità di misura, invece di metri quadrati, chilometri quadrati, eccetera, eccetera, il risultato dipende da questi parametri, quindi dollaro area dipende dalle impostazioni di progetto, quindi occhio a questo, perché contrariamente a questo c'è un'altra funzione, si chiama area, area questa volta però ha bisogno di un parametro, che è la geometria, ok? E quest'area è diversa dall'area di prima, questa è un'area, diciamo così, cartesiana, non dipende dall'impostazione di progetto, ok? Quindi questa prende la geometria per com'è e calcola l'area, però noi per questione di velocità utilizziamo solamente area, quindi questa area qua, appunto ci calcola, vedete qua sotto, già ci dà il numero, naturalmente ricordiamoci queste sono delle, sono le province, quindi sono delle estensioni abbastanza grandi, come vedete qua i numeri sono giganteschi, sono numeri enormi, allora ritorniamo a noi, io voglio selezionare degli elementi, in questo caso qual è la provincia più estesa, come si fa? Il ragionamento è semplice, io ho 107 elementi, come si ragiona? Devo creare un insieme di questi 107 elementi, di questi 107 elementi, devo tirare fuori quello che c'è all'area più grande, quindi come faccio a creare un insieme? L'insieme si crea appunto con le funzioni di aggregazione, vedete qua all'inizio c'è aggrega, quindi vado qua, vado a cercare la funzione aggrega, o meglio, in particolare siccome voglio l'area più grande, come funzione di aggregazione vado a cercare il maximum, ok? Quindi maximum cosa fa? Prende tutti gli elementi, li mette assieme e estrapola l'elemento più grande, ok? Quindi in questo caso doppio clic, naturalmente lo dovevo mettere prima, maximum di cosa? Dell'area, ok? Ma se vado a leggere la definizione di maximum, maximum, vedete qua restituisce il valore massimo aggregato, però maximum vuole solamente un elemento e obbligatorio, un'espressione, espressione come leggiamo qua sotto, sotto espressione o campo da aggregare, io come espressione utilizzo l'area e mi fermo, in questo caso mi fermo, perché a lui basta un solo elemento, però in questo caso, fermandomi qua, se io chiudo, vedete qua, mi tira fuori un numero che è legato alla feature più estesa, però ancora non so qual è, qua non c'è scritto, non mi compare scritto qual è il nome, allora come faccio io ad andare a dire a QGIS di selezionarla? Gli devo dire, questo qua è un passaggio un po' delicato, se mi seguite qua è importante, in questo caso qua nelle selezioni dovete ricordarvi sempre che l'output delle espressioni che scriviamo qua dentro, deve essere sempre un booleano, cosa significa? Significa che se io voglio fare questa selezione, l'output deve essere o 1 o 0, cioè o vero o falso, se io mi fermo qua, questa espressione è sempre vera, infatti se io facessi così e gli dicessi seleziona, poi vi faccio vedere seleziona tutto, perché questa è sempre vera, quindi questo qua dà sempre 1, sempre vero, allora come faccio ad avere come output un booleano 1 o 0? il trucco è questo qua, fatemi deselezionare, il trucco è di creare una uguaglianza, quando è che il maximum è 1, quando è, questo è uguale a cosa? Cosa devo mettere qua per creare un booleano? Area, questa espressione, vedete qua, questa espressione mi dà fuori un booleano, cioè o è vero o è falsa questa uguaglianza, ok? Maximum area uguale ad area, cosa significa questo? Che questa espressione è vera solo in un caso è vera, in tutti gli altri casi è falsa, questa è vera solo in corrispondenza della provincia più estesa, vedete qua è sempre 0, però solo in un caso è vera, poi vi faccio vedere, vi dico seleziona e guarda caso mi fa selezionare, ecco qua, Sassari è la provincia più estesa, ok? Mentre siamo qua aggiungiamo altri particolari, in maximum, vedete qua io gli posso dire group by, quindi in questo caso io se qua aggiungessi, virgola, group by, sta rallentando un poco, scusatemi, due punti uguale, quando io scrivo qua questa parte che sto scrivendo, che riguarda diciamo così la definizione della funzione, questo significa che sto utilizzando i parametri denominati, vengono chiamati, cioè significa che io gli sto dando il nome al parametro, quindi sto utilizzando il parametro group by, ok? Come group by, ora io gli dico che deve trovarmi il massimo, non su tutta l'Italia, ma gli dico ora regione per regione, in modo tale da avere le province più estese per ogni regione, quindi qua devo andare a prendere da campi e valori, qual è il campo che contiene questo valore, cioè il codice, codice reg, codreg, codreg, ok? Qua fatemi scrivere un po' meglio, così si capisce meglio, eccola qua, uguale ad aria, quindi questa qua, ora vi faccio vedere, mi selezionerà qua video 20 elementi, una per ogni regione, quindi gli dico seleziona, ora vi faccio vedere che per ogni regione, ecco qua, e quindi al solito Sardegna, Sassari, Sicilia e Palermo e così via per le altre, ok? Naturalmente poi, come vedete qua da Maximum, c'è un altro elemento che è il filter, col filtro gli posso dire, fammi vedere, fare un filtro su questa selezione, cioè gli posso dire, fammi vedere solo quelli che, non so, si trovano da Roma in su o da Roma in giù, dunque, per farvi capire che la potenza di questa espressione, andiamo avanti, che sono un po' in ritardo, anzi, questo qua era, quello che ho fatto poco fa è questa, una selezione tramite espressioni e tramite geometria, ora vi faccio vedere come fare la selezione utilizzando gli attributi, quindi questo la chiudiamo, deselezioniamo, dove è qua, sempre selezione, però questa volta utilizzando gli attributi, cioè uno dei campi, ok? Uno di questi campi qua, l'esempio classico che faccio sempre è con la denominazione oppure la sigla, no questo qua è il tipo, no, tipo non è, dove è il nome? Denuts, qua è denominazione UTS, vedete qua all'interno ci sono i nomi di tutte le province, allora io qua vi faccio vedere una selezione un po' carina, allora prendo il campo, che è questo, ora se io volessi selezionare tutte le province che iniziano, non so, con la P, come faccio a selezionarle? Tutte quelle che iniziano con la P, semplice, basta utilizzare un altro comando, si chiama I like, che sia like che con la I davanti, I like, qual è la differenza tra le due? Che con la I davanti non guarda se è maiuscola o minuscola, questa è la grossa differenza, quindi questo qua praticamente prende tutto, non sta a guardare, ripeto, se è maiuscola o minuscola. E poi gli dico, come abbiamo detto, tutte le province iniziano con la P, quindi metto P e poi gli dico, in Gugis, per dirgli tutto il resto, quindi prima lettera P, tutto il resto non mi interessa cos'è, si scrive questo per cento, il simbolo del per cento, quindi questa semplice espressione qua, mi seleziona tutte le province che iniziano con la P, seleziona, ok? Ora qua vi faccio vedere un'altra cosa un po' carina, sempre tramite espressione, io qua nelle province che ho selezionato, solo per le province che ho selezionato, voglio vedere il nome, non per tutte, ma solo quelle selezionate, come si fa? Vado su etichette, gli dico etichetta tramite regola, aggiungo una regola, la regola qual è? Il filtro qual è? Che deve selezionare, deve farmi vedere l'etichetta se l'elemento è selezionato, per questo hanno dedicato una funzione, si chiama is selected. Io lo scrivo a mano perché ormai le sono quasi tutte a me memoria, se voi non ve lo ricordate come è la funzione, l'andate a cercare qua, is selected, ok? E qua vi spiega, restituisce vero, selezionate e così via. Naturalmente questa funzione sembra banale, ma ha almeno tre casi, c'è il caso con nessun parametro, caso con un parametro e casi con due parametri, quindi è una funzione abbastanza complessa questo qua. Però nel nostro caso ci interessa solamente di visualizzare il nome se l'elemento è selezionato. Un attimino che facciamo più leggibile. Testo, eccolo qua. Ecco qua. Infatti ora se io selezionassi a mano, manualmente, quando seleziono questo, vedete, le etichette io le vedo solo nella parte selezionata. Però siccome vogliamo fare delle selezioni tramite espressione, per richiamare l'ultima espressione c'è un gruppo qua dentro, si chiama regente, e trovate l'ultima espressione utilizzata. Seleziona, questi sono quelli poco fa, che iniziano con la P. Oppure, non so, altro caso, se poi passiamo avanti, voglio selezionare tutte quelle province che all'interno del nome della provincia c'è per esempio una Z. Come si fa? Il ragionamento è che è così. Tutto ciò che c'è prima e tutto ciò che c'è dopo, l'importante è che nel mezzo ci sia una Z. Questo significa questo. Quindi seleziona, lui va a trovare tutte quelle province che hanno nel nome la Z. Catanzaro, Cosenza, Potenza, Arezzo, Piacenza e così via. Questa è la selezione tramite attributi. Andiamo avanti. Questa selezione l'abbiamo fatta. Ah, le statistiche. Nelle statistiche lasciamo questa selezione qua. Io faccio vedere che tramite le statistiche, per accedere alla funzione statistiche, in cui c'è questa iconcina qua, la sommatoria, se ci cliccate, accediamo direttamente alle statistiche. Vedete? Da qua posso scegliere uno dei campi, non so, se scegliessi sigla, lui mi dice quanti sono i numeri, cioè quanti elementi ha la tabella attributi. C'è 107, con dei distinti, ma sono tutti uguali, tutti diversi e così via. Ora in questo caso io voglio sapere, di questi selezionati, quanto vale l'area. Utiliziamo sempre l'area. Dollaro area. Però non un'area normale. Normale nel senso che l'area, quest'area qua, vi ripeto, calcola la dimensione, l'estensione, in funzione del progetto. Quindi se il progetto è espresso in metri, l'area è in metri quadri. In questo caso sono metri quadri, ma se io volessi in chilometri quadrati, diviso un milione, diviso un milione, e lui vedete sta ricalcolando e mi dice quant'è la somma. Ma in questo caso, vedete qua sotto, solo elementi selezionati, in questo caso non è attivato, quindi quest'area qua è totale, quindi 301 mila e 400 è l'estensione totale di tutte le province di questo strato informativo. Se io volessi l'area solamente di quelli selezionati, basta attivare questo e lui mi ricalcola. Quindi la somma di queste province selezionate è questo numero qua. Questo l'abbiamo visto pure. Passiamo ai widget. Vi faccio vedere tramite gli array come creare i widget. E allora questo lo chiudo. Tralascia. Aspettate un attimo. Per fare questo esempio dovete collegarvi però a questo mio blog e da qui scaricare il dato. Se ci cliccate qua, alla fine c'è... dove ho messo qua? Geopackage. Qua c'è il Geopackage. Purtroppo sto rendendo conto che non l'ho messo, quindi c'è andata da qua eventualmente per scaricare il dataset. Allora, io ce l'ho qua dove... Geopackage. Comuni. Vi faccio vedere un attimino. Questo è qua e la... sono le province siciliane. Sì, qui sono le province siciliane e qua, come vedete nella tabella attributi, oltre il feed, il codice della provincia, il nome del comune, vedete qua, ci sono vari anni. 2012, 13, 14, 15, fino al 2021. Queste sono le popolazioni. Ok? Ora, se io... ora voglio creare una widget in modo tale che cliccando su un elemento, per esempio questo, io ora qua sotto faccio comparire, sotto a questa, questa parte bassa, il widget con l'istogramma. Ok? Come si fa? Questo qua, sempre tramite espressioni, se accedere alle proprietà, si va su un modulo attributi, siamo qua, creiamo al volo una maschera. Naturalmente tutti questi dati non mi interessano, quindi questi qua li tolgo e vado ad aggiungere, vedete qua, widget QML. Lo prendo, lo metto qua, lui si apre, vedete qua, apre la maschera. E qua ci abbiamo queste tre possibilità. Se voglio un grafico rettangolare, a torto o a barre, io lo voglio a barre, ok? Vedete qua, lui in automatico, mi visualizza un esempio, però io non voglio utilizzare questo esempio, ma l'esempio che ho creato, dove è qua? Dove è qua? Dove è qua? L'esempio, ho perso l'esempio, scusatemi un attimo, esempio, proprio widget, siamo qua. Vedete questa espressione la copio, naturalmente non posso spiegarlo in dettaglio, perché il tempo... Quindi vado qua e la sostituisco, cancella e incolla, ok? Vi spiego solamente, ora vi faccio ok, vi faccio vedere direttamente in QGIS, applica, ok? Ora se vado qua, non so, clicco su questo, vedete, vi fa vedere, è l'antamento della popolazione, vedete qua gli anni, 2012, 2013, 2014, 2015, rapidamente, qua vi spiego l'espressione, solamente da QGIS, non ho modo di zoomarlo però, qua non so se riuscite a vederlo, qua purtroppo non posso... Allora, tutta la prima parte, che è questa, non va toccata questa qua, o meglio, vedete qua, qua c'è larghezza e altezza, sono dei numeri, questo qua li potete modificare voi, questo dipende dalla dimensione del grafico che volete. Andiamo all'espressione, vedete qua il massimo valore, se vedete qua è un'espressione che ho creato io, vedete tutta questa, questa è un'espressione che lui va a calcolare tramite un array, il massimo valore, questo perché? Perché in Sicilia ci sono 391 comuni, la popolazione varia enormemente, cioè la popolazione a Palermo, parliamo intorno al milione, se andiamo in un piccolo comune siamo intorno ai 3000, quindi per fargli capire quant'è l'altezza, io glielo do come parametro e il parametro è tramite un'espressione, come vedete qua gli ho dato, calcolami array max, quindi gli do in basso un array, che sono tutti i valori di ogni anno e di questo gli dico tirami fuori il valore più grande, poi alla fine vedete qua è moltiplicato per 1.10, gli ho detto praticamente esagera un po' in modo tale da lasciare questo spazio in cima, che è pari al 10% del valore più alto, questo è il ragionamento, per dargli l'impasto queste barre, quindi l'altezza di questa barra, vedete qua c'è asse X, asse Y e asse X e qua dentro se andate a vedere ci sono ulteriormente delle espressioni, purtroppo qua si vede male, ma come vedete sono semplici espressioni, come si fa a dargli l'impasto? se partiamo, o meglio, accedete qua dove c'è la Epson, qua scrivete l'espressione, poi dopo che la scrivete dovete piggiare su più, o meglio, selezionate la parte che vi interessa, se volete aggiungere, non so, per esempio qua nel max, vedete, selezionate dove c'è l'elemento, e così, e poi li raggiungi, più, e poi fa tutto in automatico QGIS, ok? questo qua, provate, scaricate il dato, copiate tutto questo, lo incollate e vedete che ve lo fa, altro esempio, sono le 9.30, che devo fare Frangé? Altri 10 minuti, oppure ci fermiamo per le domande? Sì, io direi che, cioè, 5 minuti, perché abbiamo iniziato un po' dopo e non volevo interromperti, perché mi interessavano, poi non voglio abusare della tua disponibilità, perché ti chiederai una terza puntata, ma vedo che qua tutto il materiale c'è, se puoi andare avanti fino alle 35, quindi altri... Ok, ok, faccio vedere quello che reputo più interessante di questi ultimi esercizi qua, qua volevo parlare addirittura della nuovissima funzioni che hanno appena introdotta, nella 3.20 non la trovate, ma è nella 3.2, ed è la funzione, questa qua, la trasformazione a fine, questa qua direttamente ora la trovate nel calcatore di campi, cioè praticamente vi permette di modificare come volete le geometrie, in questo caso vedete, lo faccio solamente girare. Una molto carina è questa qua, vi faccio vedere questa qua, che è molto carina, anche perché c'è Giulio che ci segue, se non faccio vedere questo, poi si arrabbia con me, allora vi faccio vedere quest'altro esempio di funzioni personalizzate però, allora vado a caricare sempre le regioni, li tematizzo così tanto per dargli... no no no, anzi non è tanto per... qua in questo caso è importante, vedete sto classificando, sto categorizzando, scusatemi però nel video è importante che si veda, io devo utilizzare questo, e allora qua vado a categorizzare tramite questo campo, si chiama denreg, ricordatevi questo campo, denreg, vedete, utilizzo questo campo e sta tematizzando, quindi per ogni regione QGIS ha scelto un colore, ok? Ora vado nel compositore di stampe, e aggiungo una mappa, che è questa qua, un attimino lo faccio più... eccolo qua... ora questo qua, tramite il plugin Dataplotly, naturalmente lo dovete prima installare, è un semplice plugin che si installa, come tanti altri, creiamo sempre qua l'area dove vogliamo il grafico e vedete qua, aggiungi il grafico, entro nel setup e vado a scegliere un bar plot, ok? Gli dico qual è la mappa di riferimento, come campo X della mappa voglio la denominazione della regione, come altezza, come ascisse, non so, l'area, fatto ciò gli dico aggiorna, ed ecco qua, come vedete rapidamente mi ha creato l'istogramma, ora la domanda che vi faccio è, ma non sarebbe carino che questi istogrammi, queste barre, prendessero lo stesso colore dell'elemento collegato? Non so, in Sicilia voglio questo colore, non so, Piemonte quest'altro colore? Cioè, la domanda è come faccio a collegare questi colori con il diagramma? Allora, per adesso non è possibile farlo in modo semplice con il plugin, però grazie a Giulio abbiamo studiato una funzione, attraverso questa funzione, con questa semplice funzione, realizziamo quello che ci interessa, vi faccio vedere praticamente, allora il grafico è questo, vedete qua i colori, il colore della barra e il colore del bordo, per fargli prendere lo stesso colore di questo, vado su modifica, vedete qua, accedo sempre nel costruttore di strinche e vado a prendere una funzione personalizzata, ripeto, questa è stata creata da Giulio, vedete qua, c'è espressione, edito delle funzioni, qua dentro queste sono tutte le funzioni che ha creato Giulio, allora vado a prendere questo qua, getCutColor, questa funzione, vedete qua, qua è più commento che altro, tutta la funzione è qua, ok? Praticamente questa funzione cosa fa? Va a prendere, ora non so se dico qualche bestialità, va a prendere la variabile che tiene in memoria i colori per ogni feature, ok? Quindi questa gli dico di caricarla, salvo e carica, me la ritrovo qua nel gruppo custom, vado a cercare getColor, questa qua, ok? Quindi qua praticamente devo dargli impasto come argomento, spiegato qua, solamente il nome del campo rispetto a cui ho categorizzato, quindi io qua devo mettere solamente denreg, se vi ricordate, quando ho tematizzato da qua non lo vedo, e chiudo, ok? Denreg, gli dico ok, gli dico aggiorna e magicamente, vedete, il grafico assume gli stessi colori, non so, Piemonte, vedete che è verde, il primo è Piemonte ed è pure verde, Piemonte, verde ed è verde, non so, Toscana è rossa, Toscana è rossa, ok? Che guarda che coincidenza Toscana è rossa, allora, detto ciò, sono il 37, mi fermo e passiamo alle domande, c'è un altro da fare, ma al solito non ci riesco, quindi un'ora a sintetizzare. Ah, guarda, sì, sì, no, molto interessante, allora, io avevo un po', due domande almeno, vedevo che aveva, non so se per sbaglio, così ho alzato la mano, e non so se sei ancora collegata, Silvia, vedo il nome, se hai una domanda, se vuoi scriverla in chat o attivarsi il microfono, volentieri, se no vado io con la mia domanda. Mi sembra sia ancora tra i partecipanti. Ciao Francesco, allora, che deve uscire, ma alla prossima. Ok, Silvia dice, vai pure con la tua domanda. Ah, vabbè, la prima, che parto dalla fine, quindi per queste, diciamo, funzioni personalizzate, quelle, diciamo, ad esempio, in passato ho avuto il problema di dover associare il colore, di una feature geometrica a, non so, una barra di un grafico, e mi sono scontrato col fatto che, cioè, ce l'avevo fatta in maniera un po' manuale e macchinosa. Queste funzioni che avete scritto, insomma, a quattro mani, o ha scritto, appunto, Giulio, e sono, per mia ignoranza, sono pubblicate da qualche parte, oppure... Sì, sì, ti faccio vedere dove sono pubblicate. Allora, oltre a essere pubblicate nel repository di Giulio, che però non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo mai, vediamo se ci riesco a trovarlo, è carto o corto? Giulio, sei corto o carto? Non mi ricordo mai. Comunque c'è un repository che... Vabbè, corto con la K. Corto? Sì, con la K. Corto 19, mi sembra. Sì, esatto. No, da qua non mi ci fa andare. Comunque c'è il repository di Giulio. Ok, ok. Ce l'ho ben presente. Oppure, no, ecco qua, faccio i frazionamenti, ci vado da qua. Allora, porto... Questi sono tutti i repository di Giulio. Dove ce l'hai? Generatore, calc... Funzionale... Era la Megist, mi pare. Comunque, o è qua, oppure, molto più semplicemente, se andate nella mia guida, questa qua è la mia guida, ogni volta, dico sempre che ne voglio parlare, ma non ho mai il tempo, se andate a cercare qua, se andate su funzioni, andate su funzioni personalizzate, custom, qua trovate quasi tutte, non ci sono tutte, tutte le espressioni che abbiamo creato assieme con Giulio, in questo caso è quello del colore, che qua, vedete, e qua c'è spiegata cosa fa, qual è la sintassi, quali sono gli argomenti, e qua c'è un esempio. E oltre c'è anche il codice, qua vi copiate il codice, vedete qua c'è il bottoncino, copiate il codice, andate in gugis, quindi praticamente cosa dovete fare? Copiate questo, andate in gugis... Qua, andate nel calcolatore di campi, andate in questo tab, gli dite più, gli date un nome, qualsiasi, questo è il nome del file, non il nome della funzione, gli date ok, e qua stesso poi, selezionate qua e lo incollate qua, salva, e poi ve lo ritrovate direttamente qua, su custom, ok? Molto semplice. Quindi questo qua, se volete, ve lo metto in chat, dov'è la chat? Questo qua. Ok, lo mettiamo noi anche in descrizione. Ok, grazie mille. C'era qualche altra domanda? Se ce ne sono volentieri, se no ne avevo un'altra, io era più una curiosità dovuta a mia ignoranza. Sì, dimmi, inizio. Avevi fatto vedere all'inizio una gif nella presentazione con l'animazione, se non sbaglio. Questa è dovuta alla mia ignoranza perché non l'ho mai utilizzata in gugis, diciamo, hai parlato di second e dell'animazione, se non sbaglio. Sì, un attimino. Questa qua, sì. Questa qua, sì. Quindi bisogna semplicemente attivare le animazioni in gugis per questo? Sì, come vedi, come parametro, per animare qualcosa, devo mettere una funzione che varia nel tempo. Certo. Quale funzione migliore che varia nel tempo, se non second? Io in basso second, quindi mi calco di second, quindi varia secondo per secondo questo. Vedete qua, secondo, now, cioè oggi, diviso 60. Però naturalmente, l'effetto di animazione si ha, dopo aver attivato però, quindi da QGIS, dovete andare nelle proprietà. Non mi ricordo qua dove era. Forza, aggiorna, vedi? Quindi, da proprietà del layer, visualizzazione. Gli devi dire, aggiorna layer ad intervalli. Ok? Perché altrimenti è tutto statico. Se non attivi questo, è tutto statico. Qua tu gli dici, fammi un refresh forzato ogni tot seconde. Ok? E quindi QGIS ti aggiorna sempre quella, quella, quel layer. Quindi da qua. Ottimo. Bello. Grazie, non lo sapevo. Cioè, non l'avevo mai utilizzato. Magari sapevo che esisteva. Ok. Nel frattempo ho ricondiviso il repository perché Bifico, che era arrivato un po' più tardi, chiedeva i dati, che sono comunque scaricabili anche dal sito Istat, penso. Sì, sì, sì. Ok. Vedo una domanda più per Giter. Il video della lezione sarà disponibile. Sì, non immediatamente. Quindi aspetteremo un po' pubblicarlo, però sì, poi lo pubblicheremo come il primo video sul nostro, sul canale YouTube di Giter. Ecco. Sì, sì, poi io aggiornerò questo repository. Quindi in questo repository poi trovate, vedete qua, se andate qua sotto, già ci sono le slide pronte, il video precedente, quello successivo lo metterò pure qua. Ok. Ok. Ditemi voi se ci sono altre domande. Sì, se ci sono altre domande parlate ora, se no, insomma, in qualche secondo posso interrompere la registrazione e ci vediamo per chi ci sarà al prossimo Geo Break, che sarà tra due settimane, alternativamente con Salvatore ci si vede su tutti i canali social suoi e di QGIS. Va bene, arrivano i complimenti in chat. Direi che posso allora interrompere la registrazione se non ci sono domande. Ok. Dai ragazzi, approfittate.